Nonostante le restrizioni del governo e la nuova ordinanza del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, i commercianti di Agropoli hanno deciso che resteranno aperti con orario continuato per incentivare i cittadini a fare i propri acquisti di Natale in tutta sicurezza e rispettando le norme anti-Covid. Nuove restrizioni da parte del governo, c'è chi resterà aperto, chi invece dovrà purtroppo chiudere in vista delle festività natalizie, mi riferisco al giorno clou per gli acquisti di Natale, quindi il 24. Voi resterete aperti? Sì, noi resteremo aperti e ovviamente siamo dispiaciuti, siamo dispiaciuti per i colleghi, per gli altri commercianti perché ci sono delle restrizioni soprattutto il giorno del 24 dove sia la mattina che il pomeriggio si lavora di più. Abbiamo deciso di fare orario continuato, sicuramente per agevolare un po' le vendite, per venire incontro anche ai clienti e speriamo insomma di risollevarci un pochino così. Quindi che orari si faranno e poi facciamo anche un invito a questo punto ai telespettatori di Cilento Channel ma anche a chi non abita ad Agropoli a venire a fare acquisti in piazza Vittorio Veneto. Certo sì, basta insomma con l'autocertificazione si possono spostare, basta scrivere sull'autocertificazione dove si recano e per quale motivo quindi possono venirci a trovare, noi saremo aperti almeno io personalmente ma penso ormai tutti dalle 9 del mattino faremo orario continuato fino alle 20 e 30. Voi negozianti come vi state organizzando? Come i cittadini di Agropoli e non potranno fare i loro acquisti per Natale? Allora noi come Catena Yamamai Carpisa ci organizzeremo in questo modo aumenteremo i giorni di orario continuato anziché farlo il 23 e il 24 come abbiamo sempre fatto ogni anno daremo la possibilità ai clienti di venire in negozio da lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 orario continuato dalle 9 alle 20. Nulla, questo è quello che possiamo fare per agevolare gli acquisti e visto che abbiamo dei contatti Whatsapp su Facebook, sui nostri social siamo a disposizione anche in orari non di apertura a venire incontro a chi ha impossibilità di venire in quegli orari per motivi lavorativi eccetera. Ce la metteremo tutta e buon Natale! La situazione direi è abbastanza critica però ce la faremo, teniamo duro per un po' ancora e tutto si risolverà. Dal lunedì al mercoledì faremo orario continuato per agevolare anche gli acquisti dei clienti dalle ore 9 alle 20 di sera. Invito a voi tutti di acquistare nel centro di Agropoli e non online proprio per aiutare a noi commercianti a risollevarci un po'. Faccio un augurio particolare a tutti i miei clienti e soprattutto a tutti e felice anno nuovo e felice Natale! Molte delle attività che potranno rimanere aperte cercheranno di fare orari continuati, cercheranno comunque di offrire delle promozioni, delle offerte, ovviamente sempre nel rispetto quello che teniamo più a precisare, proprio delle regole. Sicuramente noi invitiamo la popolazione di Agropoli o chi ha necessità di spostarsi nei piccoli comuni dei comuni di vicinato, venirci a trovare e offrirvi il massimo servizio. Vi aspettiamo tutti qui in centro città, in tutti gli angoli di Agropoli per tutte le attività che resteranno aperte. Siamo qui ad aspettarvi e vi auguriamo un buon Natale a tutti e felice anno nuovo!